Concerti sotto le stelle quest'estate a Pescara, torna il Pescara International Music Festival giunto ormai alla 28esima edizione. Diversi gli appuntamenti musicali che si terranno tra il 1 luglio e il 25 agosto nei luoghi più iconici di Pescara come l'Exaurum e il Porto Turistico. Il light motive è sempre lo stesso, grandi personaggi del panorama internazionale insieme ad altri più nazionali, locali ma di spessore, di notevole caratura. Questa è stata sempre la nostra formula che credo sia tuttora vincente. Ovviamente ci sono personaggi che provengono da vari generi musicali perché questo vuole essere un festival di world music. Non vuole essere etichettato né come un festival di musica classica, né jazz, né troppo etnico, né troppo popolare. Insomma cerchiamo di abbracciare un po' tutti i generi. Un'attrazione per pescaresi e turisti ma che quest'anno rappresenta la ripartenza post pandemia. Riparte la città di Pescara ma soprattutto uno dei settori che maggiormente hanno sofferto le restrizioni di quest'ultimo anno, quello dei concerti che comprende una vasta filiera dagli artisti ai facchini. Questa ventottesima edizione di concerti sotto le stelle è un segnale, un ulteriore segnale che noi ci siamo, che siamo propositivi, che vogliamo appoggiare tutte quelle che sono le manifestazioni che ci vengono proposte all'interno del panorama culturale cittadino. Soprattutto sia per noi come amministrazione comunale ma anche per i fruitori di quello che sarà questo evento che si terrà al piazzale Michelucci dell'Aurum per il mese di luglio e al porto turistico per il mese di agosto.